Sono qui nel Lidl e per forza devo prendere pane, guardate, c'è novità, questo qua, ingredienti e questi, un pane proteico, ma voglio a casa leggere questi qua ingredienti amici. 2.30 una pagnotta, per forza prendere pane non mi piace nessuno, pane, ma questo devo prendere perché altro supermercato non ce l'ho tempo per andare. Ho presa noci, ho presa noci buone e ho presa anche, vi faccio vedere a casa perché voglio fare una cosa molto buona, cassatielio, cassatielio voglio fare. Vediamo se c'è qualcosa, questo è il nostro Lidl, in mia città ci sono due, due belli grandi ma io non faccio spesa qui, ma soltanto vengo a prendere qualcosa, molto poco, se mi piace qualcosa. Qualche prodotto, ah c'erano spesa, ah di Grecia venuti, era già tardi, speriamo che trovi qualcosa che mi piace, perché i prodotti di Grecia mi piacciono. Ma forse una settimana fa, ora è tardi, non è rimasto niente da Grecia, vediamo a congelatore se c'è qualcosa, a pastafilio se c'è qualcosa, mi piace molto. Che cos'è questo? Ah, no no, questo dolce, no 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 no. Carciofi, guarda, carciofi alla romana con gambo 3 euro, interessante, io ho pagato qua 5, ma questa scatola più piccola, questa 350 io ho da un litro, ah sì, io ho da un litro comprato, è doppio. Comunque, qui non c'è niente, ora devo andare a vedere qualcosa in frigo, se c'è pastafila, vediamo, vediamo, veloce, andiamo, pastafilo, se c'è.